Ben 194 pagine nelle quali il commissario regionale Joseph Polimeni ha stilato il piano ospedaliero della Campania. La novità più significativa nella proposta della struttura di governo è l'aumento dei posti letto che passerebbero da 18.204 a 19.628. Non si registrano chiusure, fatta eccezione per Procida, che perderebbe l'ospedale compensato solo in parte con un potenziamento del servizio di trasporto dei pazienti fra moto e delle ambulanze. Una decisione duramente contestata dall'isola il cui consiglio comunale è riunito in seduta permanente e davanti alle case sono stati esposti drappi neri in segno di lutto. Il sindaco teme gravi ripercussioni per i circa 10.000 residenti che diventano il doppio durante la stagione estiva. La regione ha sottolineato dal canto suo l'impegno a mantenere aperti tutti gli altri ospedali anche grazie ad alcune riconversioni. La mappa divide la sanità campana in macro aree, tre per la zona di Napoli e una per ogni provincia. In quella partenopea previste dunque 186 strutture complesse, 986 posti letto a Cardarelli, 437 al Santo Bono Pausillipon, 987 divisi tra CTO, Cotugno e Monaldi. A Salerno il Ruggio ospiterà 1037 posti letto e 74 strutture complesse che diventano 35 in Irpinia con 562 degenze al Moscati. Infine a San Sebastiano di Caserta sono 624 le degenze programmate. Fatta eccezione per la sonora bocciatura del riassetto del polo oncologico soprattutto nel Sannio, le reazioni che arrivano dai territori sono sostanzialmente positive. Scongiurato il rischio di serrata il piano interviene anche per riequilibrare alcune strutture, troppi infatti posti letto di dei hospital superiori alla media nazionale, il che fa pensare ad un utilizzo inappropriato di diagnosi piuttosto che per la terapia. Insomma una sorta di pronto soccorso mascherato. Fin qui il piano stilato da Polimeni che dovrà però passare per le forche caudine del Ministero della Sanità. Non è escluso che Roma possa utilizzare l'accetta e tagliare lì dove la regione non è intervenuta. Come noto sulla sanità campana pesa sempre la spada di Damoc del piano di rientro dei debiti. La partita insomma non è ancora chiusa.